Aveva appena compiuto 57 anni, colpita da un improvviso malore domenica scorsa mentre era messa nella parrocchia che da sempre frequentava, quella di Lourdes a Campobello di Ricata, non ce l'ha fatta Anna Giordano, insegnante di religione all'Istituto Tecnico Galileo Galilei di Canicattì. I suoi familiari hanno secondato quello che era da sempre stato un suo desiderio, hanno acconsentito all'espianto di organi che serviranno a ridare speranza di vita ad altre persone. Sposata con il medico geriatra Salvatore Lamattina e madre di due figli, Anna Giordano aveva iniziato da giovanissima a insegnare religione. La sua carriera era iniziata all'Istituto Tecnico Gino Zappa di Campobello e dopo l'accorpamento della sezione di Naro con il Galilei si era trasferita a Canicattì. Domenica scorsa, mentre partecipava alla messa, si stava accingendo ad andare a leggere la lettura della Domenica delle Palme, ha accusato un malore, era stata colpita da aneurisma. Immediatamente soccorse trasportate in ospedale al Baron Lombardo di Canicattì. La professoressa Giordano è stata sottoposta alle prime cure, ma per la gravità delle conseguenze dell'aneurisma è stata trasferita a Catania, dove ieri è stata accertata dai medici la morte cerebrale. Affranto il marito, persona molto nota a Campobello di Ricata, sotto sciocchi figli che hanno perso la madre così giovane.